L'autotest, diversi anni fa, ha rilevato un'impresa a fortezza, la Vestan, che stava chiudendo. Il rischio era quello di perdere decine e decine di posti di lavoro. Invece, grazie all'appertura di questo secondo stabilimento per l'autotest, che ha la sua base a Lana, è stato possibile non solo salvare tutti i posti di lavoro dell'azienda che stava per chiudere, ma nel frattempo questi posti di lavoro sono aumentati e hanno raggiunto oggi le 120 unità.